C'è anche Adriano Marco Longo, direttore centrale della salute e delle politiche sociali della regione, fra i 13 indagati eccellenti del mondo della sanità pubblica a chiusura delle indagini svolte dalla procura di Rovigo nell'ambito del cosiddetto caso degli istituti polesani di Ficarolo. Secondo le ricostruzioni la regione Veneto, tratta in inganno, avrebbe erogato una cifra di poco inferiore ai 7 milioni di euro in un periodo compreso fra il luglio 2006 e il settembre del 2014. Il reato formulato dal sostituto procuratore Sabrina Duò è quello di truffe e di frode. 61 pazienti degli istituti sarebbero stati falsamente rivalutati da adegenti a media intensità assistenziale a pazienti ad alta intensità, anche se le strutture non disponevano di personale sufficiente per garantire il nuovo regime assistenziale, con appunto quel pesante aggravio di costi per la regione. Nello schema il compito di Adriano Marco Longo, allora direttore generale dell'Ulss numero 18 di Rovigo, era quello di validare le false schede di valutazione dei pazienti, a loro volta sottoscritte da una catena che comprendeva figure apicali della sanità rodigina, con la conseguente induzione in errore della regione Veneto.